Dopo 40 anni d'attesa la città di Pozzallo finalmente sarà dodata di un nuovo piano regolatore. La Commissione Tecnica Specialistica Regionale ha approvato la VAS del PRG della città marinara. Adesso si procederà alla pubblicazione del decreto assessoriale e successivamente il Consiglio Comunale prenderà atto del nuovo strumento urbanistico. L'ultimo piano regolatore era stato approvato nel 1979 e quindi per affrontare le nuove sfide di una città che dovrà svolgere un ruolo importante nel cuore del Mediterraneo occorreva un nuovo strumento urbanistico. Il sindaco Roberto Ammatuna nel suo primo mandato aveva messo mano al vecchio piano regolatore del 1979 ma l'iter di redazione e di approvazione si era concluso con la trasmissione alla regione dell'intero carteggio e qui gli uffici regionali lo hanno tenuto fermo per ben tre anni. Il nuovo piano regolatore si propone come strumento intorno al quale definire una strategia di sviluppo e indogeno. L'importante strumento urbanistico propone lo sviluppo di politiche di settore in materia di utilizzazione dell'energia, di gestione di servizi urbani, di sviluppo dell'agricoltura e di gestione integrata delle risorse naturali capace di allargare a tutto vantaggio delle variabili economiche, sociali ed ambientali ed anche la ricerca di elevati standard di qualità. Appena sarà trasmesso il decreto regionale ha dichiarato il primo cittadino pozzollese Roberto Ammatuna lo porteremo in consiglio comunale per la presa d'atto.